Per il giorno della legalità, il giorno della memoria della strage di Capaci, noi onoriamo Falcone, Morvillo e Scorta con la partecipazione di ben 5.000 ragazzi, una mobilitazione straordinaria. Ringrazio tutte le scuole, questo è un grande messaggio. Quando sono andato in altre realtà, ricordo per esempio quando sono andato in alcune realtà complicate, ho detto proprio che i miei complimenti e i miei ringraziamenti vanno alla magistratura, vanno alle forze dell'ordine, ma un ruolo fondamentale ce l'ha la scuola perché l'istruzione è il momento del riscatto, è il momento dell'insegnamento di valori fondamentali, di valori democratici, costituzionali, del rispetto soprattutto verso l'altro. Ho chiesto ai tecnici che hanno fissato quella data e mi hanno risposto che era impossibile spostarla perché ci sono le prove invalsi, ci sono gli scrutini, c'è poi la maturità. E quindi credo che lo sforzo enorme del Ministero che ha garantito la partecipazione di tutti questi ragazzi, di tutti questi docenti, non venga certificato perché dalle due e mezza alle tre e mezza, in un'ora dove non ci sono manifestazioni, si tengono dei concorsi in tutta Italia per dare il lavoro ai dirigenti scolastici e quindi per rendere più efficiente la nostra scuola e la nostra istruzione. Grazie.